Torna all'appuntamento con la rassegna musicale che ha dato il via all'attività della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Con la 39esima stagione dei concerti, fiora l'occhiello delle iniziative culturali di Teramo. Le novità, innanzitutto, il numero dei concerti. Sono tanti, sono 16 concerti più il concerto di inaugurazione. Poi la caratteristica è quella che tutti i concerti che si terranno di sabato e di domenica si terranno alle ore 18. E' la prima volta, diciamo, che i concerti in stagione si terranno in un orario pomeridiano, ma questo ci è stato chiesto proprio esplicitamente dai nostri abbonati. E' una stagione varia, una stagione aperta, aperta ai giovani, ai giovanissimi, ma anche ai grandi interpreti, a cominciare appunto dal concerto di inaugurazione il prossimo 22 ottobre con Rami Inbarami. Ci saranno anche delle caratteristiche particolari quest'anno? Una commissione forse anche tra diversi generi artistici? Diversi generi artistici, per così dire, non sarà un cartellone proprio di musica, solamente di musica classica. Ci sono alcuni appuntamenti di musica jazz molto importanti, come ad esempio il concerto di Fabio Concato con Paolo Di Sabatino, che sappiamo sta avendo tantissimo successo in tutta Italia. Oppure abbiamo il gruppo giovanile, l'orchestra New Talent Jazz Orchestra, che è l'orchestra di giovani dell'Accademia di Santa Cecilia. Abbiamo il bellissimo concerto con Di Battista e Niki Nicolai, con Enri De Luca. Quindi sono, diciamo, degli appuntamenti particolari che vanno appunto a unirsi, appuntamenti per così dire, di musica classica, naturalmente, come l'orchestra nazionale di Kiev. Tanti altri appuntamenti che sicuramente il nostro pubblico saprà riconoscere come eventi, come sempre, di qualità. Grazie a tutti.